Ma salve a tutti, buonasera a tutti voi e ben ritrovati. Io immaginavo di ritrovarmi questa sera a registrare un video da condividere insieme a voi. Non so perché, chiamatelo Sesto Senso, chiamatelo come volete, però mi sentivo che qualcosa di cui chiacchierare oggi sarebbe poi venuto fuori. In realtà questo è un video che volevo già fare, di mio. Però mi è arrivato in aiuto qualche assist da parte dei giornalisti sportivi che in questo momento stanno parlando effettivamente di Giadon Sancho. Ne sta parlando Pedulla, ne sta parlando Fabrizio Romano, ne stanno parlando un po' tutti quelli più di riferimento ad oggi nel calcio mercato a livello mondiale. E quindi viene da sé pensare una cosa. La Juventus e Sancho probabilmente, o la Juventus e lui United, qualche contatto lo stanno avendo. Anche dall'Inghilterra, da Sky Sport, stanno parlando di questa possibilità. Io nelle live, e chi segue le dirette che facciamo una volta a settimana, lo saprete bene, tutti sapranno questa cosa, ma io nelle live continuo a ripetere da settimane ormai che per me è un nome da non accantonare. Per una semplice ragione. Sancho ad ogni modo lascerà il Manchester, o almeno questa è la mia impressione. È un giocatore fuori rosa, è un giocatore che non è più nei piani dello United, del suo venatore, è che l'anno scorso per sei mesi è partito, è andato in prestito, è uscito. È un giocatore che lo United non voleva più. Poi nel calcio abbiamo visto che ci sono mille storie di questo tipo. McKennie, per dire, la Juve è l'esempio perfetto per descrivere. Un giocatore che a gennaio parte, va in Premier League, con un obbligo di riscatto in caso di salvezza, non si salva, retrocede, torna alla Juve, viene messo fuori rosa, reintegrato, titolare, proposto rinnovo, rifiutato rinnovo, rimesso fuori rosa, e ora reintegrato in rosa con un rinnovo a rimasso. Quindi la storia di McKennie ci insegna a andarci con i piedi di piombo. E tutto quello che si dice in chiave calcio-mercato può veramente cambiare da un momento all'altro con un incastro di un certo tipo. Quindi fino a che non arriva Sancho, fino a che non arriva con Mainers, non possiamo darli per fatti, però sono giocatori sicuramente sui quali l'Aventus sta pensando, lavorando forse su Sancho è una parola grossa, almeno ci sta pensando. E quindi, dato che molto probabilmente il giocatore lascerà la United, bisogna anche cercare di capire dove andrà a scontrarsi. Ora, vi fermo subito, perché c'è qualcuno che potrebbe giustamente controbattere dicendo «Ma hai visto quanto guadagna Sancho?» Benissimo, assolutamente sì. E infatti il punto è uno e uno solo. Sancho quelle cifre non le può assolutamente percepire a Torino. Questo è poco ma sicuro. Anche se abbiamo visto che il discorso economico può essere un deterrente fino a un certo punto, basti pensare a Dybala, che era un millimetro dall'Arabia, con delle offerte folli e proprio stasera abbiamo saputo che invece alla fine Dybala non si muoverà dalla Roma o perlomeno non andrà a giocare in Arabia. Se poi la Roma avrà interesse a cederlo e riuscirà a trovare una squadra che andrà a offrire a Dybala un contratto che l'Argentino apprezzerà, eccetera, eccetera, poi le vie del mercato sono infinite anche se mancano soltanto sette giorni. Quindi sì, sono d'accordo, Sancho deve rivedere le sue condizioni economiche, però è anche vero che deve capire se in questo momento vuole rimanere nella sua prigione d'oro in Inghilterra al Manchester con lo stipendio che percepisce senza giocare oppure trovare una squadra che o gli garantisce lo stesso stipendio e lo fa giocare oppure semplicemente la squadra può proporgli un posto alla titolare ma in cambio, ovviamente, di uno stipendio più basso. Non sempre può capitare, come nel caso del Dortmund, dove c'è anche magari la volontà dell'United di aiutare nel pagamento dello stipendio, può succedere anche questo, però poi se il giocatore dovesse essere tesserato a titolo definitivo deve mettersi una mano sul coro, sul portafogli e capire quelle che sono le condizioni della squadra in cui andrà a giocare. Si era parato di PSG, anche se in questo momento non è ancora affondato, e ormai il mercato ha gli sgoccioli. Quindi queste sono veramente quelle classiche trattative che possono rimanere in piedi in una condizione. Fino all'ultimo non c'è rimasto nessun altro incastro perché è ovvio che in questo momento se arrivare il PSG dovesse arrivare la Juventus, per Sancho il PSG potrebbe rappresentare una proposta più allettante per ovviamente soldi, banalmente, e anche probabilmente per quello che può essere il PSG ipoteticamente in una Champions, anche se oggi il PSG non è più quello di qualche anno fa, Mbappé, Messi, Neymar, sono veramente antichi ricordi, il PSG oggi è una squadra molto più normale, molto meno galattica. Questa è una cosa che va assolutamente sottolineata. Qualcuno potrebbe anche dirmi, ma come? Quando si era parlato di Sterling alla Juventus hai detto guardate quanto prende e quindi rispondetevi da soli. Vero, anche questo, però voglio portarvi questo ragionamento. Se la Juventus si sta muovendo su Sancho, che è un giocatore ancora molto giovane, che si è solamente perso durante la sua parentesi all'United e che già il Dortmund in questi sei mesi di prestito ha dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli, allora Juventus può decidere, anche magari al fronte appunto del giocatore, che decide di ridurre il suo ingaggio e percepire meno una cifra più legata a quelli che sono gli standard italiani e a quello che può essere anche il salario capo interno di Juventus, quindi sui 5 milioni. E sì, Sancho dovrebbe veramente ridursi anche tanto lo stipendio, però la Juventus poi in quel caso potrebbe essere più disposta ad andare anche a riscattare il giocatore e quindi la Juventus potrebbe anche essere disposto a cedere il cartellino del ragazzo, che sicuramente sarà sulla trentina di milioni di euro o giù di lì. La Juventus potrebbe ragionare su un prestito con un diritto o un obbligo di riscatto e magari con la Juventus che aiuta per questo primo anno a pagare una parte dell'ingaggio. Potrebbe essere una soluzione che la Juventus sta cercando di portare a casa. In Inghilterra è un po' più facile secondo me fare questo tipo di ragionamenti perché queste squadre hanno tanti giocatori fuori rosa e sono situazioni che deve risolvere. Anche Sterling potrebbe essere una roba di questo tipo. Però vi faccio una domanda. Sterling che è un 94 e Sancho che è decisamente più giovane. Quale dei due profili la Juventus potrebbe essere più interessata poi ad andare a riscattare e quindi pagare una cifra elevata per il cartellino per tenersi in casa del calciatore? Secondo me decisamente meno quello di 30 anni decisamente di più quello più giovane. Questa penso che sia proprio un discorso banale che fila liscio come l'olio. Poi magari c'è stato davvero una chiacchierata tra Juventus e Chelsea per scambiarsi Chiesa e Sterling. Però ribadisco secondo me su Sterling il problema non è soltanto quello legato all'ingaggio anche quello legato all'età e eventualmente un riscatto da parte della Juventus che non credo possa essere particolarmente interessata a fare un investimento di quel tipo per un giocatore che comunque ormai il meglio l'ha già fatto vedere ad altissimi livelli. Concludo dicendo che la Juventus ha la ricerca di esterni e questo è un dato di fatto. Stamattina avevamo parlato di quella voce lanciata da Pedulla ieri sera che vedeva la Juventus comunque interessata sul fronte esterno magari addirittura con un terzo esterno in caso di cessione di chiese costici di questo tesoretto inaspettato che potrebbe ritrovarsi la Juve. Ma soprattutto sappiamo che proprio per voce ufficiale della Fiorentina Nico Gonzalez è un giocatore per il quale cito testualmente aperte le virgolette non ci sono le condizioni oggi per un trasferimento. La Fiorentina ha detto che se lo tiene volentieri sa che la valutazione è elevata hanno detto 40 milioni non possiamo dire se quella è la valutazione giusta sono veramente convinto che la Juventus oggi stia ragionando e anche tanto su un'alternativa a Nico Gonzalez perché un conto era riuscire a prendere delle condizioni economiche vantaggiose magari incastrando davvero anche nella trattativa alcuni giocatori come si è riscosso di McKennie si è riscosso di Szczesny ora questi due giocatori sono stati sistemati con condizioni contrattuali differenti una recessione e un rinnovo si parla ancora di Kostic si parla ancora di Arthur sempre il nodo stipendi sul brasiliano ex Barcellona ma questo ormai è un dato di fatto e quindi magari la Juve oggi ha detto senti dato che McKennie non riusciamo più a inserirlo e che quindi quei soldi non possiamo andare a scalare il cartellino non è che c'è anche un'alternativa a Nico Gonzalez e probabilmente il nome di Sancho sta tornando di moda proprio per questo motivo una trattativa sta iniziando ad arenarsi ci sono delle richieste molto alte da parte la Fiorentina che la Juventus probabilmente oggi considera fuori contesto per il calciatore per la trattativa per quello che si era immaginato e allora Sancho secondo me che è un profilo di altissimo livello e che in Italia farebbe decisamente la differenza può diventare davvero il nome preferito della Juve in questi ultimi giorni di mercato è un sogno da cullare insieme a Copmanners perché immaginatevi di riuscire a tesserare sia Copmanners che Sancho nelle prossime sette giornate perché poi tra una settimana chiude il calcio mercato oggi ho fatto impazzire Twitter ho scritto ultima settimana la settimana decisiva del calcio mercato la Juve la gente è impazzita che cosa sai che cosa ci stai nascondendo vuota il sacco semplicemente chiudo il mercato quindi è la settimana decisiva per forza di cose e chissà che Giuntoli non stia ragionando su questo doppio colpo che andrebbe davvero ad innalzare anche tanto la qualità del reparto offensivo della Juventus però io ora voglio sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti concludo dicendo che Sancho è un giocatore da rimettere in piedi atleticamente ho visto delle foto non è per nulla in forma in condizione in questo preciso istante nel quale vi sto parlando però è un giocatore come mi ha fatto notare anche proprio su Twitter lo scorso anno a Dortmund non ci ha messo tanto a rientrare in una perfetta forma fisica che poi l'ha visto protagonista anche di un'ottima Champions League con tanto di finale persa contro il solito Real Madrid le vostre considerazioni qui sotto nei commenti e noi ci vediamo domani ciao